Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video, oggi siamo su Borghetto 2.0 era qui che stavo cercando di incollare il tetto della futura stazione, vedete che bello tra l'altro ogni pilastro è fatta tutta in 3d questa stazione e nei buchi ci ho fatto un foro che poi per feccarci i led per illuminarla e ora ho fatto questa prova qui ho visto che ci sta quindi finiamo di montarla i saw her standing in the street alone her head was down face locked onto the phone And I wished I had a number saw I could be color unknown And then I tell how to look into my eyes And never let it go We are free to decide We will love another We are free to believe We will love another Love another Love another We are free to decide We will love another We are free to believe We will love another Don't let it go But we never might find it again Don't let it go Cause we never might find it again As I was about to open her door I saw the guy that she was waiting for He had no flowers in his hands And no time to say hello If I were in his place I know I would have kissed her slow We are free to decide We are free to decide We will love another We are free to believe We will love another We are free to believe 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 Ragazzi ed eccola qua Tadà Bella stazione Ok, ora bisogna cercare, vedete qua è tutto pari, tutto pari, tutto pari Qua c'è uno scalino, qua andrebbe tagliato, qua è pari Qua ci siamo, qua andrebbe rimato un pezzo E anche qui, in modo da fare una curva uniforme E' per questo che ho preso il caro amico Dremel Grazie a tutti! Ok, il sopra ancora non l'ho verniciato, per il semplice motivo non so che colore farlo Lo lascio così, poi do un po' di chiazze nere, anzi un po' di chiazze marroni Ora vediamo Intanto mi piacerebbe togliere questa cosa di colla a caldo Giusto per farla un po' più liscia E basta Quindi ragazzi, spero che per questo video è tutto Spero che vi piaccia Ora mi devo canzare per un altro video di lettrino Non so più che mi devo canzare nel lavoro E noi ci vediamo al prossimo video Ciao!